A voi tutti buon weekend e ben ritrovati su Agronotizie. Sarà un weekend con dei disturbi, delle nuvole che attraverseranno già venerdì le regioni settentrionali, centrali, localmente meridionali, pochi disturbi, poche gocce, qualche goccia, vedete, lungo il versante tirrenico su zone interne appenniniche, ma nulla di rilevante. Poi nella giornata di sabato e domenica ancora nuvolosità che sarà presente su buona parte della penisola anche se in maniera irregolare e sul versante tirrenico non escludiamo qualche goccia di pioggia, scroscio di pioggia, comunque non parliamo di perturbazioni ben organizzate, tutt'altro anche domenica, vedete, la situazione non cambierà più di tanto questa nuvolosità, qualche rovescio in più però domenica anche non solo sul versante tirrenico, anche sulle regioni meridionali, fenomeni comunque fugaci sul resto del territorio, irregolarmente nuvoloso. Per il momento io mi fermo qui, vi ricordo che dal pulsante sottostante potrete visualizzare le previsioni di casa vostra. Arrivederci. Grazie.